Buonasera ai nostri telespettatori, benvenuti all'appuntamento con il Fatto. Oggi parleremo di politiche giovanili e politiche dello sport con un ospite illustre che ha accolto il nostro invito, il ministro dello sport e dei giovani Andrea Bodi. Buonasera ministro. Buonasera a lei. Benvenuto negli studi di Reteotto, in una giornata che ha vissuto, sta vivendo, mentre registriamo a cavallo da una serie di incontri con i giovani soprattutto per parlare del valore costituzionale dello sport, per parlare anche del valore dello sport non soltanto per la salute ma anche per la cultura, per la formazione, per la crescita. Ha avuto questa mattina un feedback anche con i ragazzi a Pescara nella sala consigliare del comune. Allora le posso già chiedere quali sono le sue prime impressioni in questo confronto che lei ha voluto con i più giovani, con gli studenti, ministro? È stata una mattinata emozionante, devo dire. Mi auguro anche interessante, sicuramente per me, mi auguro anche per loro, non convenzionale. Normalmente quando si organizzano eventi come quello di questa mattina si viene, si parla e si va. Io invece l'ho improntato un po' sull'ascolto. Ci sono state una brevissima introduzione da parte mia, del sindaco naturalmente, i presidi comunque delle scuole, Leonardo da Vinci, Galileo Galilei e Gabriele D'Annunzio e poi ho ascoltato loro e ho risposto a una decina di domande e ho promesso comunque che sarei tornato anche a Pescara e sarei tornato a scuola con loro per vedere la condizione delle palestre e per parlare anche di progettualità legata comunque ai giovani e all'ambiente. Io credo che sia stata molto produttiva, per me sicuramente, ripeto, tanti stimoli. Io credo che noi dobbiamo ripristinare un rapporto fiduciario. Parliamo tante volte di partecipazione, chiediamo. Diciamo che molto spesso aumentiamo il livello della propositività sulla partecipazione quando ci sono delle competizioni elettorali. Io penso che la migliore campagna elettorale sia quella che avviene tra una campagna elettorale e l'altra e quindi la semina quotidiana anche attraverso il rapporto, attraverso il confronto, il colloquio, gli sguardi. Per ripristinare fiducia serve questo, una presenza sincera, costante, produttiva. Ministro, a volte è importante l'impiantistica sportiva, soprattutto quella nelle scuole cui faceva riferimento, perché questi ragazzi appartengono a una generazione che ha vissuto un lockdown prolungato, ha vissuto l'inagibilità di queste strutture e anche dal punto di vista psicologico la mancanza di spazi all'area aperta. L'impiantistica è certamente importante, ma arrivo a dire non determinante. Intanto facciamo un ragionamento generale molto velocemente. Più di una scuola su due in Italia non ha la palestra. Se ci limitassimo all'accertamento di questo dato dovremmo quasi arrenderci. Invece la Costituzione, con la modifica dell'articolo 33, ci spinge a consolidare, a consacrare la valorizzazione dell'attività sportiva in tutte le sue forme per il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico. E quindi arrivo a dire che le infrastrutture immateriali, i programmi didattici, la qualità dei docenti, la loro qualificazione professionale, la quantità di ore messe a disposizione, anche della cultura sportiva, sono quasi più importanti, ma è un paradosso, della pratica sportiva. Se facciamo venire voglia anche attraverso la parte semplicemente di promozione delle attività e non soltanto di pratica stessa, forse lo sport lo si va a cercare anche fuori dalla scuola, anche dove non c'è una palestra. Questo poi dipende anche dal modo con il quale noi cercheremo di mettere in relazione le palestre scolastiche con le società e le associazioni del territorio e le scuole senza palestra con gli impianti pubblici affidati di prossimità, affidati a società e associazioni del territorio. Quindi è un meccanismo che per le difficoltà e anche il deficit dal quale partiamo deve iniziare da una collaborazione stretta tra le istituzioni. E quanto può essere cruciale sia per le infrastrutture materiali che per quelle immateriali, formative sportive di cui lei parlava, questa partita del PNRR che è aperta per il Paese? La partita del PNRR purtroppo è aperta e chiusa, perché il PNRR ormai ha i suoi profili di investimento definiti, lo sport ne ha avuti pochi di risorse, ne ha avute poche, lo 0,34%, lei pensi che in tutta Italia 700 milioni, che possono sembrare un numero significativo, ma oggettivamente rispetto ai 200 miliardi sono poco, rispetto alle difficoltà e le esigenze di ammodernamento del sistema infrastrutturale e sportivo poco, le palestre scolastiche hanno avuto 300 milioni, lo 0,14% e quindi dobbiamo cercare intanto di portare a termine tutti i progetti che sono stati presentati per questa misura, ma poi prendere subito spunto dalle nuove misure europee, a partire dal Fondo sviluppo e coesione, la misura 21-27, per fare in modo che le infrastrutture migliorino, ed è un miglioramento non tanto nella quantità o non soltanto nella quantità al netto delle palestre scolastiche, quanto proprio nella qualità delle infrastrutture, penso alla messa in sicurezza, penso all'efficientamento energetico così importante anche per quanto riguarda il costo dell'energia, penso all'intelligenza tecnologica con la necessità da parte comunque dei docenti in qualche maniera di utilizzare le tecnologie, ma soprattutto dei ragazzi e delle ragazze che hanno bisogno secondo me di scuole intelligenti dal punto di vista della tecnologia e penso tema dei temi, forse il più importante di tutti è l'accessibilità, per fare in modo che le palestre, gli impianti, quelli scolastici e nonne, siano accessibili per tutte le forme di disabilità, per le persone che vogliono comunque fare sport. Ministro, una parentesi che poi è relativa all'altra sua importantissima delega, quella per i giovani, si è chiusa in questa fase, quella appunto del bando per il servizio civile universale. In Abruzzo ci sono state numerose domande, grande successo per tutte le proposte che sono giunte dalle Ollus e dalle istituzioni. Che tipo di opportunità si aprono per i giovani con l'adesione al servizio civile universale e soprattutto le chiedo, c'è una possibilità che poi questo diventi anche il lavoro della loro vita in alcuni casi? Intanto partiamo dal dato, c'è un incremento del 50% dei posti a disposizione di ragazzi e ragazzi abruzzesi per la propositività dei progetti e quindi dei soggetti che hanno configurato le iniziative, l'altro anno di poco superiore ai 1100, quest'anno superiamo i 1700 con 2400 domande, quindi il segnale che stiamo cogliendo nel punto giusto, che siamo riusciti a utilizzare anche i linguaggi e i canali adeguati per sollecitare i giovani e le giovani abruzzesi sul servizio civile, che è un'esperienza meravigliosa di cittadinanza attiva, è un allenamento straordinario per quanto riguarda la generosità sociale. Io credo che per quanto non porti direttamente al mondo del lavoro, però alleni a una modalità di affrontare la vita anche lavorativa attenta anche al bisogno dell'altro e quindi non è un caso che siamo riusciti ad ottenere il 15% di riserva nei concorsi pubblici per chi ha fatto il servizio civile e per sostenere questa opportunità, secondo me molto interessante, molto importante, quasi rivoluzionaria, è una novità assoluta per il servizio civile, stiamo definendo in via ultimativa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali la certificazione delle competenze, che è un altro tema importante perché non basta un attestato di partecipazione a qualificare quell'esperienza. Lo stiamo declinando anche in ambito di crediti formativi universitari, in prospettiva per quanto lontane vediamo quello che succederà, può essere riscattato quell'anno anche ai fini pensionistici e poi manterremo i rapporti e i contatti con chi ha fatto il servizio civile universale attraverso una banca dati che stiamo alimentando e poi stiamo declinando il servizio civile non soltanto in chiave generalista, ma anche col servizio civile digitale, ambientale, il prossimo bando sarà per l'agricolo e poi arriverà quello culturale, poi quello turistico e poi quello sportivo. Quindi noi ci stiamo impegnando per fare in modo che sia un'evoluzione del servizio civile per come è nato 20 anni fa o meglio 50 anni fa con altri presupposti e lo vogliamo avvicinare senza confonderlo con le politiche del lavoro, vogliamo che sia un ponte tra le esperienze scolastiche, universitarie e quello è il punto del lavoro. Ministro, lei qui in Abruzzo è un periodo in cui la campagna elettorale è ormai infocatissima. Uno dei temi di maggiore polemica nei confronti del Presidente Marsilio e delle sue scelte in questi cinque anni investe proprio una scelta sportiva, quella di sostenere il ritiro del Napoli Calcio a Castel di Sangro in Abruzzo con un contratto e un impegno pluriennale. Qual è il suo punto di vista su questa scelta? Intanto il tema dei ritiri estivi dei grandi club, dei club di Serie A è un tema che ha creato valore in tante economie territoriali di tante regioni italiane. Io credo che al di fuori della polemica, che spesso si alimenta in una fase appunto elettorale, io credo che sia opportuno fare delle misurazioni, cioè non tanto quanto è costato, ma che investimento sia stato e che ritorni abbia prodotto. Basta vedere la crescita significativa, molto rilevante, del turismo destagionalizzato, del turismo legato esclusivamente alla presenza del Napoli Calcio con tutta la sua passione, con tutti i suoi tifosi, tanto più avendo anche, detto tra noi, portato un po' di fortuna, perché vincere uno scudetto non è cosa di poco conto, cosa che si costruisce anche attraverso un buon ritiro nelle migliori condizioni come quelle che ha trovato a Castel di Sangro, quindi al di fuori della polemica, che capisco e che rispetto per certi versi, io credo che sia importante comunque la misurazione dell'effetto positivo e quello oggettivamente c'è e ce lo dicono soggetti terzi che hanno valutato proprio l'incremento del turismo, che vuole dire poi economia locale, economia territoriale, oltre che promozione ulteriore del territorio attraverso i canali di comunicazione. Io penso che sia stata fatta non soltanto per vicinanza politica e per fratellanza anche personale, io credo che sia stato fatto un buon investimento e credo che gli operatori del settore turistico e gli operatori economici in generale potranno testimoniarlo. E quanto è cresciuta a suo avviso l'immagine internazionale dell'Abruzzo per la grande partenza del Giro d'Italia che c'è stata nella scorsa primavera? Questo ancora una volta lo devono dire gli indicatori, le analisi quantitative, 200 paesi, in 200 paesi si è visto il Giro d'Italia, si è vista la grande partenza e non soltanto la tappa affascinante dei Trabocchi che oggettivamente ha un suo fascino non convenzionale. Il Giro d'Italia è un pezzo di patrimonio nazionale attraverso lo sport, per quanto riguarda la nostra nazione rappresenta i territori più affascinanti, la scenografia, la sceneggiatura in qualche maniera ambientale, paesaggistica di grande interesse. Credo che sia stato fatto un altro buon investimento ed è opportuno, come è stato deciso dal Presidente Marsilio e dalla Regione Abruzzo, andare avanti, tant'è che se non sbaglio anche per il Giro che inizierà tra un paio di mesi, tre mesi, ancora una volta l'Abruzzo sarà protagonista perché c'è bisogno oltretutto di continuità negli investimenti di questa natura, non bastano degli spot, c'è bisogno di una narrazione filmica quasi e il Giro d'Italia questo lo garantisce. Ecco, ci aiuti anche a noi abruzzesi a realizzare l'evento di uno sport che all'Abruzzo è molto legato perché sono Presidente federale a RACU da tanti anni, il World's Games di pattinaggio che rappresenterà l'evento internazionale forse ancora più rilevante di questo 2024. Cosa rappresenterà per l'Italia e per l'Abruzzo in particolare? Allora intanto diciamo che non soltanto per la sua italianità e per la sua natura abruzzese, l'Italia sarà teatro dei mondiali di tutte le discipline, saranno quattro le regioni coinvolte, il Piemonte, l'Emilia Romagna, il Lazio e appunto l'Abruzzo. L'Abruzzo sarà la regione chiave, cardine un po' di questi mondiali, discipline, tante medaglie, ma soprattutto tanto spettacolo legato alla gioventù in senso generale. Il mondo rotellistico è uno straordinario mondo legato ai giovani, pieno anche di arte, pieno di musica. Sono convinto che l'Abruzzo sarà teatro di uno spettacolo straordinario che andrà in giro per il mondo, ma che userà canali anche ancora una volta non convenzionali, molto più le piattaforme che le televisioni. Anche questo credo che sia fondamentale per destagionalizzare e anche uscire dai canoni del turismo, quello di una certa età. Io credo che il turismo giovanile sia un turismo che merita di essere promosso, sostenuto, aiutato e sono convinto che l'Abruzzo sarà ancora più conosciuto nel mondo grazie a questa esperienza. Quindi il fatto che sia pescarese il presidente mondiale oltre a Raku non è determinante, ma sarà molto importante per l'Abruzzo cogliere questa occasione per promuovere al meglio tutte le sue bellezze anche attraverso il mondo rodellistico. Pochi secondi, però non possiamo risparmiarci ministro le dolenti note che arrivano dal calcio e in particolare dal Pescara del suo amico Daniele Sebastiani, che era il presidente di Lega di B quando il Pescara è stato in B, campionato nel quale vorrebbe, probabilmente meriterebbe per il suo pubblico, per la sua società tornare. Come vede questo momento così difficile, peraltro con la società anche contestata con una stagione che non sembra rispettare proprio le premesse iniziali, cosa augura allo sport, al calcio pescarese? Allo sport pescarese auguro non soltanto i successi sportivi in tutte le discipline, ma che migliori ulteriormente il livello della sportività di questa città, di questa provincia, all'interno di questa regione, dando seguito all'impegno del presidente Marsiglio, comunque di questa giunta e dando seguito anche all'impegno dell'amministrazione comunale, oggi abbiamo visto gli investimenti fatti sulle infrastrutture a partire dai due palazzetti con 6 milioni di Euro ricavati proprio dal PNRR, utilizzati bene e efficacemente, quindi auguriamo di vincere, ma soprattutto di convincere la città ad alzarsi dal divano, quella che è ancora seduta per fare attività sportiva che fa bene alle persone e fa bene proprio alla comunità nel suo complesso. Dopodiché il Pescara, io ricordo ancora la promozione in Serie A, ne parlavamo prima dell'inizio di questa trasmissione, ricordo ancora quel Pescara-Torino 1-0 negli ultimi minuti che hanno regalato una gioia infinita, è vero che era quasi un'altra epoca, però questo non bisogna mai dimenticarlo, perché la tifoseria che va rispettata e che va sempre ringraziata, perché è il cuore comunque dello spettacolo, dimentica presto i successi, dimentica presto le soddisfazioni e è chiaro che si concentra sulla stretta attualità, questo è un momento difficile, però una cosa non deve mai mancare, il rispetto, rispetto reciproco della società nei confronti dei tifosi, rispetto dei tifosi nei confronti della società, ogni tipo di violenza che sia verbale, che sia addirittura fisica, ma il passo è breve e il rischio è sempre incombente, il confine è sottile e comunque va contrastato, perché la civiltà di una comunità non si manifesta soltanto nei momenti del successo, ma anche nei momenti delle difficoltà, stringendosi attorno alla società, alla squadra e poi ci sono delle responsabilità evidentemente, delle scelte sbagliate, ma questo non deve mai portare a giustificare quello che è successo nei giorni scorsi e è successo anche in altre occasioni, ricordo di bombe carta, manichini impiccati, siamo al di fuori dello sport, siamo ai confini della criminalità, questo non è amore e lo sport deve rimanere comunque amore anche nella gestione delle pulsioni e anche nella gestione degli interessi, quindi mi auguro che si esca da questa situazione difficile, di disagio, il calcio d'altro canto offre sempre una nuova opportunità, rispetto alla vita dove spesso un fallimento è definitivo, una stagione sbagliata può essere recuperata, l'importante è fare tesoro delle esperienze fatte. Grazie, grazie Ministro Andrea Bodi per aver accolto l'invito di Eteotto e essere stato presente nei nostri strumenti, arrivederci e buonasera.